Matteo Renzi sistemato da Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia ha risposto al consiglio non richiesto del numero uno di Italia Viva, oppure fare come voi che guardate indistintamente da sinistra a destra pure di avere un posto al governo, è la stoccata della Meloni arrivata su Twitter. Il riferimento è alle parole dell'avversario, che durante l'aria che tira sulla sette diceva, Giorgia Meloni è una che va da Vox, il partito di destra spagnolo, NDR. Se vuole avere un percorso di leadership le consiglio di guardare più al centro. Ma l'ex premier non è l'unico che la Meloni mette al proprio posto. Dopo di lui è stato Enrico Letta. Il segretario del Partito Democratico, pur di provocarla, è incappato in una clamorosa gaff. «È vero, è il mio mito. Lo confesso. Tutto torna. Cancelletto abisso della morte», aveva scritto Letta con tanto di locandina di Dylan Dogg in riferimento a una frase pronunciata dalla leader di FDI. «Una frecciata a cui la Meloni ha subito replicato. Abisso della Mo4 te lo troverai nelle parole di Papa Francesco». «E comunque il fumetto di Dylan Dogg si chiama Abisso del Male. Per fortuna che era il tuo mito. Detto questo, una cosa è certa, è un dibattito surreale. Solo che lo avete scatenato voi». «Gro, è il mio mito. Lo ho avuto. Le ho avuto. Le ho avuto. La mia moglie.